Buongiorno, buongiorno, grazie per aver pazientato un attimo. Io vi do il benvenuto a questo momento di studio e di comunicazione molto importante dedicato ai vaccini questi conosciuti. Come sapete abbiamo proprio voluto fare questo gioco di parole per andare oltre tante idee che ci sono su questa tematica così importante. Ne parliamo con i docenti dell'Insubria, avrete sicuramente riconosciuto al nostro tavolo anche Alessandro Cecchi Paone che prende la parola dopo e che salutiamo. Quindi io do la parola subito al magnifico rettore Angelo Tagliabue per un saluto e poi ai docenti che vi racconteranno, vi porteranno per mano dentro questo argomento complesso. Grazie, grazie. Benvenuti. Abbiamo fortemente voluto questo incontro perché è un incontro confronto di apertura verso un argomento abbastanza dibattuto. Il compito dell'Ateneo è formare, come sapete, e nel formare, quale meglio di questo argomento che ha avuto degli alti e bassi a livello di opinioni, a livello nazionale sicuramente, noi vogliamo oggi con tutti questi esperti riuniti, dimostrare l'assoluta efficacia del metodo. Ma non sta a me entrare in questo argomento perché ci sono degli esperti presenti. Li ringrazio tutti, ringrazio voi che siete presenti, vorrei ringraziare in particolar modo il dottor Cecchi Paone che oggi è tra noi nella qualità di esperto, perché lui è un vero esperto di tematiche scientifiche. È una persona che ci è molto vicino e veramente grazie, grazie, grazie di essere qua. Non voglio rubarvi altro tempo, spero che sia una giornata importante, che chiarisca le idee a tutti, soprattutto e che tolga le ombre da una metodologia che assolutamente ha salvato milioni e milioni di vite umane. Grazie e buon lavoro. Allora, eravamo d'accordo che cominciava, ma prendo salve a tutti. Io poi vi spiego in che senso sono così coinvolto e così vicino, come ha detto il magnifico rettore, ma prima diamo la parola al professor Roberto Accolla che ci introduce gli aspetti scientifici, dopodiché approfondiremo anche quelli legati alla comunicazione, alla valenza politico-culturale, al perché si è potuta scatenare quasi improvvisamente una polemica su un tema che era già stato acclarato dal punto di vista dei risultati, cioè della salvezza di centinaia di migliaia di vite. L'altro aspetto che poi tratteremo è anche quello delle motivazioni che ci sono state dietro questo movimento che apparentemente sta perdendo dei colpi. Il professor Accolla mi ha promesso di dare dei numeri che ci dovrebbero dire che il peggio sembra passato, non è il momento di abbassare la guardia, ma sembra che dopo due anni di battaglie durissime a livello scientifico, ma soprattutto a livello politico e di comunicazione, siamo riusciti a raggiungere quella soglia superiore al 90% della copertura, il famoso effetto gregge, orribile definizione, che però garantisce la salute certa per tutti, in particolare per tutti i bambini. Lo sapete già, ma per chi non frequenta direttamente questa università, il professor Roberto Accolla è un immunopatologo. Grazie, professor. Eccolo lì, grazie. Grazie. Grazie, dottor Cecchi Paona. Io volevo introdurre questa giornata in modo particolare facendo dei ringraziamenti al Rettore e al Rettore Vicario che hanno supportato in maniera forte questa iniziativa, non come un'iniziativa scientifica, questa non è una sola iniziativa scientifica, ma è fondamentalmente un'iniziativa divulgativa. E lo hanno fatto nella consapevolezza che l'università ha una funzione non solo formativa nei riguardi dei propri studenti, ma divulgativa, responsabile della propria finalità e dei propri scopi, e collaborativa nei riguardi delle istanze del proprio territorio e della comunità tutta. Ringrazio innanzitutto tutti i partecipanti, sperando che poi intervengano nella discussione in maniera molto attiva. E ringrazio i colleghi, i colleghi che hanno accettato con entusiasmo questa iniziativa e che presenteranno le loro evidenze, le loro espertise su questo progetto. Questo è uno dei punti fondamentali che abbiamo fortemente voluto, cioè il fatto di invitare tutte le persone che si occupano a vario modo di vaccino, in maniera tale che la copertura, se volete, informativa, scientifica sia il più ampio possibile. Questo non sarà quindi one man show, sarà qualcosa in cui tutti porteranno i loro contributi, sperando che attraverso questo contributo generale si abbia una visione molto più chiara della cosa. La cosa interessante è che speriamo che il pubblico intervenga e la speranza è che alla fine di questo pomeriggio si esca da questa sala con consapevolezza che si è fatta corretta informazione e che ciò sia servito ad elaborare una propria posizione di tutti voi sulla materia più strutturata e in modo particolare basata sui fatti. Allora io vi farò vedere alcune diapositive che riguardano più specificamente le mie competenze, quelle di immunopatologo. Inizio con questa perché penso che questa sia una delle diapositive più importanti, vi fa vedere come è nata l'arte, si chiamava arte medica, della vaccinologia, dell'immunologia. È nata con Edward Jenner e con Louis Pasteur che a loro modo hanno iniziato a introdurre la scienza nella medicina della protezione dalle infezioni. Edward Jenner è stato il primo che ha formulato il vaccino antivaioloso e Louis Pasteur è stato quello che come sapete ha fatto il vaccino antirabbico e poi il processo di pastorizzazione che ha eliminato la gran parte dei batteri degli agenti infettanti dagli alimenti. Ora questa diapositiva vi fa vedere forse il traguardo più importante che abbiamo raggiunto a livello epocale con la vaccinologia, cioè l'eradicazione di una malattia che nel passato ha creato e ha provocato centinaia di milioni di morti, il vaiolo. Nel 1979 l'OMS ha annunciato l'eradicazione del vaiolo e questo signore che voi vedete qua, Alima Wan Malin, è stato l'ultimo caso di vaiolo annunciato al mondo in Somalia ed è sopravvissuto. Da allora il vaiolo, il virus del vaiolo non circola più e per questo abbiamo eliminato la vaccinazione. Chi è di voi più o meno della mia età sa che a quel momento in cui eravamo giovani ci siamo vaccinati, adesso i bambini non si vaccinano più. Questa è una cosa molto importante sotto due aspetti. Primo, vi fa capire che cosa ha fatto la vaccinazione, ha eradicato una malattia e secondo vi introduce nella problematica della obbligatorietà o meno dei vaccini. Non è più obbligatorio questo qua, non c'è più. Giusto per darvi delle stime di che cosa hanno significato le epidemie nei secoli scorsi, guardate queste stime. La peste di Giustiniano tra il VI e l'VIII secolo ha generato più di 100 milioni di morti. Ora, in quel momento lì la popolazione mondiale non era di 7 miliardi di abitanti, ma era di 400 milioni di abitanti, 450 milioni di abitanti. Questi 100 milioni vuole dire che in quel momento storico abbiamo decurtato la popolazione mondiale di un quarto. Poi la peste nera del XIV secolo, tra il XIV e il XV secolo, ha provocato 50 milioni di morti e vi faccio vedere, l'ho messo in grassetto non a caso, dell'AIDS che dall'82 ad adesso ha provocato 40 milioni di morti circa. Ora, perché questo è importante? Perché questa è una delle malattie su cui ancora non disponiamo di vaccino. Se voi andate a vedere qui, alla fine di questa diapositiva, ancora oggi, nonostante ci sia una terapia contro l'AIDS, una terapia molto importante, abbiamo sempre almeno 2.000 persone che muoiono al giorno di AIDS, cioè 700.000 persone all'anno. Queste sono tutte le cose, le grandi epidemie che si sono susseguiti nei secoli. Adesso vi faccio una piccola introduzione sull'immunologia e sul sistema immunitario e la vaccinazione, per farvi capire, là dove ci saranno degli esempi pertinenti, come in effetti alcuni miti e alcune credenze che la gente giustamente può avere o qualche perplessità, in effetti possono essere fugate abbastanza velocemente e abbastanza facilmente. Allora, come è fatto il sistema immunitario? Per quelli che non sono tra voi domestici con questo particolare sistema. Il sistema immunitario è fatto da una rete di vasi linfatici che confluiscono in linfonodi, che sono le stazioni in cui avvengono in effetti le risposte immunitarie, e da due organi centrali immunitario, uno è il timo e uno è il midollo osseo. In questi organi nascono le cellule che poi ci daranno come prodotti gli anticorpi che ci serviranno per l'immunità. La milza si può considerare un altro organo accessorio, è un grosso linfonodo, che ha più funzioni dei linfonodi e quindi noi abbiamo degli organi primari come il timo e il midollo osseo da cui provengono le nostre cellule immunitarie e tutte queste stazioni linfonodali che distribuiscono e perlustrano continuamente tutto il nostro corpo per vedere se ci sono agenti infettivi. Quali sono le cellule più importanti del sistema immunitario? Sono due tipi di cellule importanti del sistema immunitario. Un tipo di cellule che noi chiamiamo genericamente fagociti, cioè cellule che mangiano, che sono adibite al primo contatto col patogeno e se lo mangiano, lo eliminano attraverso un processo di digestione molto grossolana ma molto molto performante, utile. E poi c'è un sistema, il sistema cosiddetto dei linfociti, che sono le cellule sopraffine, le cellule raffinate, quelle che in effetti ci danno l'immunità specifica, quelle che poi prolunghiamo nel tempo, che ci dà memoria immunologica. Vedremo poi di che cosa si tratta. Questi sono gli linfociti. Ne abbiamo due tipi, un linfocito T, si chiama T perché deriva dal timo, e un linfocito B perché deriva dal bombaro, cioè dal midollo osseo. Questi sono i linfociti che producono le sostanze che più di tutti ci proteggono dalle malattie infettive, cioè gli anticorpi. Anticorpi che nel gergo possono essere chiamati anche immunoglobuline. Quindi adesso gli anticorpi sono quelli che più, e le cellule B sono quelli che più in maniera pertinente sono correlate con la procedura vaccinologica, perché sono quelle che in effetti producono gli anticorpi contro batteri e virus circolanti. Quindi, questa è un'immagine di una cellula B, vedete che secerne tutti i suoi anticorpini, queste strutture blu, che qua non vengono molto ben definite da questa diapositiva, ma insomma si intravenono. Il nostro sistema immunitario, pensate, è fatto da più di 100 miliardi di diversi anticorpi, ognuno dei quali è specifico per un certo antigene, ed uno solo, ed è prodotto da una singola cellula B. Quindi vuol dire che noi abbiamo almeno 100 miliardi di cellule B che fanno ognuna un tipo specifico di anticorpo. Quindi in teoria possiamo riconoscere 100 miliardi di antigeni diversi. Per andare sul reale, sulla vita di ogni giorno e per introdurre il problema dei vaccini, o per meglio dire la caratteristica dei vaccini, pensate che ogni bimbo contiene, bimbo di un anno o due, contiene 10 milioni di cellule B per millimetro di sangue. Ogni patogeno che noi incontriamo e che i bimbi incontrano può contenere mediamente da 100 a 1000 antigeni diversi. E anche con queste limitazioni il sistema immunitario di un bimbo potrebbe rispondere efficacemente alla somministrazione di 10 mila vaccini contemporaneamente. 10 mila vaccini contemporaneamente. Cioè 10 mila non patogeni, ma un certo numero di patogeni che esprima 10 mila antigeni diversi. Quindi tutte queste bestiole che vedete qua, rappresentate in maniera molto iconografica, potrebbero essere iniettate direttamente in un bambino e dare una risposta efficace in questo bambino. Questo ci porta a dire, con ovviamente delle dimostrazioni e delle pubblicazioni che sono state valutate da pari, cioè da altre persone che si occupano di questo campo, che 10 vaccini non sono troppi e che troppi vaccini non indibuiscono affatto il sistema immunitario perché lui è capace di rispondere contro centinaia, se non migliaia, di possibili vaccinazioni. Quindi queste due, se volete, luoghi comuni sono semplicemente privi di fondamento. Quando si parla di vaccini spesso si confonde, spesso si ha una definizione e una valutazione sbagliata di che cosa siano i fatti dei vaccini, almeno nell'opinione pubblica. I vaccini, nella loro eccezione classica, non sono dei farmaci terapeutici, non guariscono, da malattie, come può essere per esempio l'aspirina o gli antibiotici. Cioè, questi farmaci qui noi li diamo al malato, no? Quando c'è uno che ha una malattia, allora diamo questi tipi di procedure. Facciamo questi tipi di procedure. I vaccini, invece, sono dei presidi medici preventivi, almeno i vaccini classici, che hanno la caratteristica di ennescare la risposta immunitaria contro gli elementi del patogeno senza che però ne abbiamo gli effetti della malattia provocata del patogeno. Quindi, se noi ci prendiamo un patogeno, un'infezione virale, un'infezione batterica, questa infezione ci può provocare una malattia. Se noi adesso al patogeno facciamo rilevare soltanto i suoi antigeni, ma lo distruggiamo da un punto di vista di innesco della malattia, abbiamo i vaccini. E questa vaccinazione, ovviamente, a chi la facciamo? Non la facciamo ai malati, non la facciamo ai sani. E qua si introduce un argomento molto delicato da un punto di vista di discussione. Cioè, i vaccini si danno ai sani, non si danno ai malati. E questo già provoca nell'opinione pubblica uno certo sfasamento alle volte, perché dice, ma perché devo produrre o esercitare un atto medico in una persona che sta bene? Ok? Ora, un'altra problematica molto importante della somministrazione dei vaccini, come voi sapete, specialmente in età pediatrica, in età pediatrica, come il professor Agosti sarà molto più ostensivo in questo, è il fatto che spesso le procedure vaccinali sono plurime. Cioè, non è che diamo soltanto un'iniezione al bimbo, ne diamo più di una nel tempo. Perché questo? Perché questo fa parte della, come si dice, della strategia del sistema immunitario. Il sistema immunitario risponde contro i patogeni all'inizio con una certa quantità di cellule che vengono coinvolte e con una certa quantità di anticorpi che vengono fatti. Ora, vi prego di attirare la vostra attenzione su questa scala. Questa è una scala logaritmica, cioè ogni tacca in alto vale dieci volte di più. Allora, quando noi non abbiamo contattato nessun patogeno, i nostri anticorpi sono zero. Nel momento in cui abbiamo il patogeno sia somministrato come vaccino, sia infettandoci normalmente, cominciamo a produrre questi anticorpi. Questi anticorpi, vedete, questa è una scala in giorni, raggiungono un loro massimo attorno al dodicesimo, quattordicesimo giorno. Poi c'è un certo tipo di stasi nella produzione di anticorpi. Qua abbiamo prodotto, per esempio, dieci anticorpi contro questo patogeno. Poi la risposta cala. Cala vuol dire non c'è, questi anticorpi hanno un tempo di emivita relativamente basso e quindi vengono via via eliminati dal sistema. Allora, se interveniamo qui con una successiva somministrazione del nostro antigene o del nostro patogeno attenuato, morto, come volete, abbiamo una risposta estremamente più elevata. Perché? Perché qui esistono le cellule che hanno avuto contatto col precedente patogeno e quindi sanno, sono memorizzate per rispondere contro il patogeno. E vedete che la quantità di anticorpi che noi riusciamo a fare al secondo contatto col patogeno è mille volte di più di quella che abbiamo al primo contatto. Questo ci assicura una ampia, una molto più ampia protezione. Questo in gergo noi la chiamiamo memoria immunologica ed è questo quello che facciamo con i vaccini. Introduciamo il vaccino una volta e poi una seconda volta per caratterizzare questa enorme produzione di anticorpi che poi resterà nel tempo e spesso resta per tutta la vita. Quindi questo è un punto molto importante da capire nella procedura vaccinale. Allora, perché noi le vaccinazioni le facciamo in particolare nei neonati nella prima infanzia? Perché in questa fascia di età viene il primo contatto dell'individuo con gli agenti patogeni, perché in questa fascia di età i soggetti sono più suscettibili alle malattie, ma il sistema immunitario del bambino e del neonato è praticamente completo. E poi c'è una cosa su cui io attiro la vostra attenzione, perché spesso sfugge. I neonati e i bimbi non possono andare da soli dal medico, non si possono vaccinare. Questo vuol dire che ce li dobbiamo portare. E questa è la responsabilità del papà e della mamma. Il papà e la mamma, se si infettano e si prendono una malattia infettiva, hanno le loro coperture, hanno le loro possibilità di agire. I bimbi no. Quindi abbiamo un'ulteriore responsabilità nei riguardi del bimbo. Ora, questa è un'altra di positiva a cui tengo in modo particolare, perché vi fa vedere come avviene e perché vacciniamo da bambini, da piccoli. Durante il periodo fetale, la mamma, che è adulta, vaccinata, come si dice, che ha incontrato tutti i patogeni di questo mondo, ha maturato delle risposte immunitarie contro questi patogeni e quindi ha fatto i suoi anticorpi. Spesso questi patogeni sono venuti a contatto parecchie volte con la mamma e quindi la mamma ha avuto la possibilità di fare memoria immunologica, cioè di farne tanti di questi anticorpi. Ora, questi anticorpi passano dalla mamma al feto e questa curva blu che vi faccio vedere qui. E durante la gestazione il bambino, anche se è sottoposto ad un ambiente completamente sterile, è comunque protetto. E lo è anche dopo il parto il bambino, appena nato, perché ancora qui abbiamo un grosso titolo di anticorpi che sono prodotti dalla mamma e sono passati al bambino. Ecco perché noi non vacciniamo quasi mai il neonato. Però poi questi anticorpi della mamma che hanno un tempo di emivita, poverini anche loro, relativamente breve, decadono e vedere che attorno al sesto nonno mese non ce ne abbiamo più, anticorpi della mamma. Quindi questa è la fascia in cui il bambino è completamente non protetto e quindi questa è la fascia in cui, nonostante il suo sistema immunitario sia maturo, dobbiamo agire con i vaccini. Ecco perché li facciamo a questa età e non li facciamo subito alla nascita, ma li facciamo dopo due, tre mesi normalmente. Ora, come si sono evoluti i vaccini? I vaccini iniziali, quelli di Jenner per dire, di Pasteur, erano dei vaccini dei patogeni vivi. Cioè il virus del vaiolo che Jenner somministrava ai suoi pazienti era vivo, veniva da scarificazioni del vaccino, cioè del vaiolo delle vacche. Era un virus vivo. E i virus vivi, come voi potete ben capire, possono avere dei pericoli perché da una parte vi possono vaccinare, ma dall'altra parte vi possono provocare la malattia. Via via che cosa si è fatto? Si è capito questo fatto e adesso gran parte dei patogeni, gran parte dei vaccini sono dei patogeni o morti o attenuati. Ma la scienza è andata molto avanti. Negli ultimi trent'anni la scienza ha progredito in maniera tale che siamo riusciti a capire quali sono i determinanti antigenici delle bestiole che ci possono proteggere dalla malattia. E quindi non usiamo per molti di questi vaccini che adesso usiamo, non ne siamo più le bestiole, il professor Toniolo poi ce lo spiegherà ancora meglio, ma usiamo addirittura dei componenti specifici di questi vaccini, che sono quelli che producono la malattia e contro cui noi facciamo anticorpo. Quindi immaginatevi che trent'anni fa, no, anzi che vent'anni fa noi usavamo dei vaccini che avevano circa tremila antigeni e adesso i vaccini a nostra disposizione ce ne hanno settanta, molto meno. Questi sono i tipi di vaccini, i microrganismi interi e parti di microrganismi, per esempio il vaccino della morbillo, della parodita e della rosolia, e il vaccino polio di Sebin sono degli agenti attenuati, delle bestiole attenuate, mentre per esempio il vaccino che si usa per la trivalente difteria, difterite, tetano e pertosse sono questi componenti specifici che vi ho fatto vedere e non più le bestiole. Adesso si stanno mettendo a punto delle tecniche molecolari molto sofisticate, per cui tra poco, anzi già li abbiamo, ma non sono usati in clinica ancora, potremo avere dei vaccini specificamente diretti contro uniche determinanti antigeniche del patogeno, quelle che ci fanno ammalare. Cosa contiene un vaccino? Questa è un'altra cosa, un'altra notizia che poi elaboreremo molto meglio nella discussione. Il vaccino contiene la bestia, o il prodotto della bestia, cioè il principio attivo, contiene un adiuvante, che adesso vi dirò che cos'è, contiene un preservante. L'adiuvante, che ha fatto tanto scalpore, ha prodotto tanta preoccupazione nell'opinione pubblica, è in genere un prodotto che serve a rallentare l'assorbimento degli antigeni e a eccitare componenti del sistema immunitario che mantengano una risposta continua. Nell'individuo. Uno di questi sono i sali d'alluminio, che hanno preoccupato molte persone. Adesso vi farò vedere che la preoccupazione in effetti non esiste. Oppure degli oli minerali, adesso ce n'è uno che si chiama squalene perché viene dallo squalo, in effetti, ma ce l'ha anche l'uomo, uno molto simile adesso. I preservanti sono quelle sostanze che si usano per sterilizzare i vaccini, oppure per uccidere alcuni componenti del vaccino, quando il vaccino è a bestia intera. Uno di questi che ha provocato molta preoccupazione negli anni precedenti era la formaldeide. Allora vi faccio vedere prima i sali d'alluminio. Allora, nei vaccini attualmente a disposizione, che contengono i sali d'alluminio, perché non tutti li contengono, la quantità è di 0,25 2,5 milligrammi. Non c'è nell'antipolio e in vari altri vaccini. Ora, con il cibo noi assumiamo 5-20 milligrammi al giorno di alluminio. Quindi con il cibo noi assumiamo qualcosa come 20 volte la quantità che c'è in un vaccino. Ogni giorno. Quindi vedete che siccome non siamo intossicati da alluminio, almeno in genere, e non abbiamo patologie da alluminio, questo vuol dire che non ci dobbiamo preoccupare oltremoto se ce ne abbiamo 10 volte o 20 volte meno nei vaccini. Per quanto riguarda la formaldeide, la formaldeide è un tossico, almeno si crede tale, come tutti i farmaci, a dosi basse non funzionano, a dosi medie funzionano, a dosi alte sono tossici. Non esiste un farmaco che non abbia un effetto collaterale. Dipende dalla dose. E questo è quello che insegniamo ai nostri studenti a medicina. Ora, in alcuni vaccini che sono stati trattati, la formaldeide è presente a 0,1 milligrammo. Un neonato di 5 kg ha una concentrazione di formaldeide nel sangue, essendo un prodotto importante per il metabolismo, perché la formaldeide serve a produrre gli acidi nucleici, di 1,06 milligrammi. Quindi, normalmente, un bimbo neonato porta 10 volte più formaldeide nel sangue di quanto ci sia introdotto per un vaccino. E questo è da tenere in mente quando si fanno delle lucubrazioni sui vaccini. Questa è l'attuale, come diceva il dottor Cecchi Pavone, questa è l'attuale copertura italiana per quanto riguarda i cosiddetti vaccini obbligatori. La protezione di gregge, cioè quella che non fa ammalare i bambini anche se uno di essi non è vaccinato, di solito si raggiunge attorno al 95%. Non siamo messi male in Italia. Siamo attorno al 93% nei grandi numeri per i vaccini importanti. Però, vedete, quando andiamo al morbillo, la parotita, la rosolia, la varicella, ecco che i numeri scadono e questi non sono numeri che permettono la protezione da eventuali epidemie. Quindi su questo dobbiamo ancora lavorare. Due concetti che poi verranno ripresi e poi termino. Sul che cosa vuol dire eradicazione ed eliminazione. L'eradicazione noi l'abbiamo raggiunta da un punto di vista vaccinologico solo con il vaiolo. Il vaiolo non circola più, il virus del vaiolo. L'abbiamo eradicato, eliminato, non c'è più. Tutto ciò che invece facciamo, per esempio, alle nostre latitudini, noi abbiamo eliminato la polio in Italia. Abbiamo eliminato praticamente la difterite in Italia. Ora, questa eliminazione non vuol dire eradicazione. Cioè, i batteri e i virus che provogono queste malattie stanno ancora lì. Noi li abbiamo eliminati da certe fasce geografiche perché ci siamo vaccinati. Vedete che, per esempio, la difterite è endemica in tutti questi paesi del mondo. Cioè, là non abbiamo né eradicato né tantomeno eliminato il batterio della difterite in questi paesi. E guardate quanti ce ne sono. Vabbè, niente questo. Vi faccio soltanto questo esempio e poi concludo. Su che cosa vuol dire, perché questo è un controllo di popolazione di cui abbiamo avuto esperienza qualche decennio fa. Di che cosa vuol dire avere un paese che è altamente protetto contro una malattia infettiva e che per qualche ragione poi non lo diventa più. Come per dire, ma perché mi devo vaccinare se non c'è la malattia? Guardate che cosa è successo in Russia negli anni 90, quando il paese smette di vaccinare contro la difterite perché è scoppiato, perché in quel paese in quel momento la situazione politica era molto ingarbugliata. Fino al 1990, nell'Unione Sovietica, i casi di difterite erano pochissimi. Dopo il 1989, per gli sconvolgimenti economico-sociali di quel paese, è caduta la copertura vaccinale per i bambini. La conseguenza di questa caduta vaccinale in Russia è stata un'epidemia di 200.000 casi in questi 3-4 anni, a cavallo dell'inizio degli anni 90, di difterite con 6.000 morti. Solo tra il 92 e il 95, nell'Unione Sovietica, ci sono stati 125.000 casi con 4.000 morti. E la difterite non ha colpito solo i bambini, ha colpito anche gli adulti. Vi faccio vedere questo, che poi sarà ampliato sicuramente dal professor Agosti. Che cosa vuol dire, da un punto di vista psicologico e non solo medico, il fatto di avere una percezione del rischio bassa? Noi abbiamo una percezione del rischio bassa per quanto riguarda le vaccinazioni. Perché? Perché in questo paese fortunatamente non ci ammaliamo più. Però, se noi avessimo un po' di memoria storica e avessimo visto che cosa vuol dire, che cosa è stata la poliomielite, che cosa è stata la difterite, ci saremmo resi conto che queste cose sono state delittuose per l'umanità. Adesso questa percezione del rischio non ce l'abbiamo più, ma in molti paesi queste cose ci stanno ancora. E quindi se noi, vedete quello che è successo in Russia, se noi abbassiamo la soglia vaccinale, queste malattie ritornano. L'ultima diapositiva. A questa diapositiva tengo veramente molto perché vi fa vedere, da un punto di vista numerico, che cosa vuol dire avere una percezione bassa del rischio. E non a caso, siccome tutti siamo preoccupati delle reazioni allergiche, delle reazioni avverse che possono avere i nostri bimbi quando li vacciniamo, ho messo come rischio soltanto il rischio terminale, il rischio di morte di una popolazione che si vaccina o non si vaccina. Allora, tutti questi sono i vari tipi di batteri e virus contro cui noi abbiamo dei vaccini. Se calcoliamo il rischio di morte per i vaccinati, questo è pari a zero. Ovviamente non sto dicendo il rischio di allergia o il rischio di altre cose che possono avere. Il rischio di morte è quello terminale. Se non ci vacciniamo, quant'è attualmente il rischio di morte per queste malattie? Uno su trenta che si prende la difterite e muore. Uno su trenta che si prende il tetano e muore. Uno su venti che si prende la pertosso e muore. Uno su dieci che si prende il meningococco e muore. Vedete che numeri abbiamo. Quindi cerchiamo ogni volta, quando affrontiamo questi argomenti, di andare ai fatti. E i fatti sono questi. Grazie. Professore, grazie perché ci ha dato i numeri promessi e ci ha dato anche molti stimoli interessanti. Tra l'altro lei ha accennato a una delle possibili motivazioni dell'ondata Novax degli ultimi due anni. Una delle tante. Su questo poi torneremo il professor Minazzi come filosofo della scienza e io come esperto di comunicazione di massa e di opinione pubblica. Però il fatto che appunto molte malattie non le conosciamo più, le nuove generazioni anche di medici non le conoscono e questo potrebbe aver fatto abbassare la sensibilità. Ci sono altre ragioni, poi le vedremo insieme. Comunque grazie. Grazie per i dati. Una delle riflessioni che facevo è che se non ci sono qui presenti dei medici o degli studenti di medicina, io credo che gli altri non sappiano cos'è la difterite, per esempio. E cosa comporta e come si manifesta. Proprio perché, essendo stata eliminata o eradicata, dice che cosa sarà mai, perché non sappiamo più che cos'è, per fortuna, e grazie alle terapie vaccinali. Io mi soffermerei su questi dati ulteriori di Margaret Chan, me l'ha fornita sempre il professore, è stata direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità fino al 2017, quindi fino a un anno e mezzo fa, la quale, chiudendo il suo mandato, ha dato questa informazione. Almeno 10 milioni di morti sono stati evitati tra il 2010 e il 2015 grazie alle vaccinazioni. E svariate milioni di vite in più sono state invece protette dalle sofferenze e dalle disabilità legate a malattie quali la poliomelite, la polmonite, la diarrea, la pertosse e il morbillo. Allora, mi soffermo un attimo prima di dare la parola al secondo relatore su due di queste patologie. Il morbillo ci ha fatto vergognare, perché, come ha visto il professore, facendoci vedere poi a sua volta la slide, noi abbiamo perso l'immunità di gregge del 90-93%, scendendo sulla copertura del morbillo a 87%, che non è sufficiente, come ci ha detto. E questo ha provocato un allarme a livello mondiale, per cui dopo, credo, 50 anni o 60 anni, c'è stato un allarme da parte degli Stati Uniti e di altri paesi avanzati, che hanno detto ai loro concittadini, se andate in Italia, vaccinatevi. Noi siamo abbastanza abituati, no? Se andiamo per vacanza o per lavoro in Africa, in certi posti del Sud America, in certi posti dell'Estremo Oriente, a vaccinarci contro diverse patologie. Ma chi poteva immaginare che, 70 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, un americano si sentisse dire, dalla Food and Drug Administration, dalla loro centrale, diciamo, di controllo medico nazionale, «Se andate in Italia, vaccinatevi contro il morbillo, perché di nuovo il morbillo circola ed è pericoloso». Una figuraccia, una mortificazione, un'umiliazione, al di là del pericolo corso già dagli italiani che stanno in Italia. Ma in più abbiamo avuto anche questo schiaffo internazionale. Per quanto riguarda la poliomielite, io non sono matusalemme, ma ho fatto in tempo a vedere quelle immagini che sono state appena mostrate. Io ricordo che intorno ai miei dieci anni, per ragioni di lavoro di mio padre, vivevo a Napoli, e il Sud Italia era pieno di bambini storpi, di bambini in carrozzella, di bambini in carrozzella e poi anche molto approssimative, perché nel 70 eravamo ancora un paese povero, soprattutto al Sud. Io chiedevo ai miei genitori perché questi bambini, e così tanti, fossero così gravemente danneggiati e impediti nei movimenti, e loro mi dicevano hanno questa malattia che si chiama poliomielite. Io rispondevo, ma allora posso rischiare anch'io, visto che sono un bambino. No, perché ti hanno dato quello zuccherino, all'epoca era fatta così, era uno zuccherino con due o tre gocce rosa, che era il modo in cui si somministrava il vaccino antipolio Sabin, e quindi tu puoi stare tranquillo. Allora, io quei bambini non li ho mai più visti. Prima ancora di sapere i numeri, visto il mestiere che faccio, quei bambini non li ho mai più visti perché è provato che grazie alla vaccinazione che è stata fatta bambino per bambino a scuola, è scomparsa la poliomielite dall'Italia e non si è mai più visto un bambino storpio a causa di quella malattia. Allora, poi ci chiederemo, com'è possibile di fronte a questo straordinario, bellissimo risultato, non morti e neanche bambini gravemente danneggiati perché qualcuno è potuto impazzire e credere che è meglio non vaccinare un bambino.